Grazie a tutti. E' stata archiviata l'inchiesta contro Roberto Speranza, che era indagato a Roma per gravi reati. Speranza lamenta una campagna d'odio, poverino, che tenerezza che fa. Contro di lui, dice, archiviata l'inchiesta su Speranza per i vaccini Covid. Ecco, Roberto Speranza ha agito per l'esclusivo fine di tutelare la salute collettiva delle popolazioni e già mai, per fini individualistici, specialmente dolosi. Ecco, a dirlo è il Tribunale dei Ministri di Roma, che ha archiviato l'ultimo procedimento giudiziario ancora aperto contro l'ex Ministro della Salute per alcune denunce relative alla campagna di vaccinazione anti-Covid. Il procedimento era nato dalle denunce di alcune associazioni no-vax. Allora, questo dovrebbe dimostrarvi ancora una volta di più che la divisione dei poteri, lo Stato di diritto, è come dire, un gioco, no? Che può convincere soltanto i più ingenui. Alla fine la giustizia è il risultato dei rapporti di forza e i rapporti di forza sono il risultato dell'agire politico. Ecco, in questo io non sono marxista, però non si può negare che Marx avesse ragione nel dire che il potere giudiziario dentro le società liberal-capitaliste altro non è, se non il luogo dove si certificano i rapporti di forza, dove la classe dominante colpisce la classe dominata facendo finta di farlo nel nome di una legge astratta e uguale per tutti, imponendo in realtà la supremazia di un gruppo su un altro. Che speranza fosse l'anello finale conclusivo di una catena di comando gestita dalle grandi multinazionali del farmaco, con la copertura dei ministri della salute dei principali paesi del mondo, con la supervisione di Bill Gates e dell'OMS, con la sottomissione dei principali centri politici dei paesi che hanno vessato la gente, è una cosa evidentissima. Però pensare che i tribunali possano rendere giustizia ai danneggiati da vaccino, ai ricattati, a quelli che sono stati costretti ad esibire una tessera per lavorare, obbiettivamente è un po' ingenuo. Ecco, quindi questo serve da lezione per tutti quelli che dicono no, ma noi non crediamo nella via politica, ci sono altre, c'è la giustizia, ci sono le leggi, le cose. Forse è bene uscire dall'età bambinesca per entrare in quella adulta. Ecco, ho sempre creduto che la verità sarebbe emersa, scrive Speranza, vedete che è contento, lo scrive sui social. In una situazione difficilissima ho dato tutto a me stesso per salvare la vita delle persone. Ma ora io direi una cosa, faccio una proposta, ma perché anziché adesso che è stato archiviato non apriamo un nuovo procedimento nei confronti di Speranza, però un processo di canonizzazione non si può, visto che Papa Francesco era uno che l'ha sponsorizzata pure, ha parlato pure nel suo ultimo libro della follia di chi rifiutava la scienza, la vaccinazione di Massimo, ma perché non facciamo un bel processo di canonizzazione? Santo Speranza, protettore dei sierati, guardate che non c'è forse, lo mettiamo il 29 febbraio, così è più raro, c'è una volta ogni quattro anni e si fanno pellegrinaggi a potenza, si mette una statua sua con la siringa in mano, se ne possono fare di cosa? Il materiale c'è, quindi ragioniamoci, solo che è vivo, non so se è possibile per le leggi della Chiesa canonizzare, fare santo uno che è vivo, e vede, si può fare un'eccezione, una cosa, già è palliduccio, non so se basta però, perché è vivo è vivo, perché se no, questo è evidente che è vivo. Ho sempre creduto che la verità sarebbe emersa, ecco poi, poverino, ha vissuto giorni non facili, perché lui ha seguito sempre le indicazioni della comunità scientifica su questo, non abbiamo dubbi, ha vissuto giorni non facili, è al centro di una campagna d'odio, però vuole dire grazie alle tante persone che lo hanno sostenuto. A giugno anche il Tribunale dei Ministri di Brescia aveva archiviato le accuse mosse contro Speranza dalla Procura di Bergamo nella max inchiesta per epidemia colposa sulle mancate zone rosse, non risulta che abbia indotto i dirigenti ministeriali a ritardare o do mettere azioni di sorveglianza epidemiologica e di sanità pubblica. Insomma, è stato bravissimo, ha fatto tutto bene, è stato proprio in gamba, quindi non si meritava l'apertura di un'inchiesta, si meritava semmai un premio, una promozione, però i perfidi Novax, che sapete come sono questi Novax, sono maliziosi, continuano a non amarlo, imparate ad amarlo, guardatelo bene, imparate anche a venerarlo, a pregarlo, pregatelo, magari se avete dei problemi nella vita, avete delle cose che non riesco a superare questo momento, pregatelo, vedete che magari la vita comincerà a sorridervi. Grazie a tutti.